L'impianto ormai sono anni che è aperto, sono anni che viene vissuto dai cittadini, ci facciamo musica, ci facciamo lezioni di cucina, ci facciamo concorsi e mostre di pittura estemporane, quindi anche in questo caso si chiede il contributo dei cittadini per andare a disegnare quella che sarà la futura fattoria urbana che verrà fatta qua e il futuro centro di ricerca per tutte le energie rinnovabili. Un centro di ricerca ed una city farm ovviamente zero spreco, si tratta di un'iniziativa di AESA Impianti col diretti e comune di Arezzo che adesso hanno lanciato due concorsi di idee rivolti a chiunque voglia offrire il proprio contributo. Due concorsi dunque per valorizzare la filosofia del progetto zero spreco che AESA Impianti sta portando avanti da anni. Devo dire che l'azienda è veramente viva, vitale e ogni giorno di più affronta temi legati all'ambiente, legati alla buona qualità della vita attraverso la produzione di beni che apparentemente in contrasto con una realtà industriale come questa ma in realtà anche dalle ricerche epidemiologiche dotati di tutte le garanzie dal punto di vista della sicurezza dell'ambiente e dei cittadini e delle persone. L'invito adesso è così rivolto alle associazioni, agli studi di ingegneria ed architettura ma anche a scuole e privati cittadini. Chiunque può presentare la propria idea per realizzare un centro di ricerche dedicato ad attività di ricerca e sperimentazione nel campo dell'economia circolare, dell'agricoltura biologica, dell'alimentazione sostenibile e della lotta allo spreco alimentare. E questo è il primo concorso di idee, il secondo è per realizzare una city farm, cioè una fattoria cittadina qui vicino a noi dove abbiamo dei terreni agricoli, assolutamente autosufficiente. Intorno alla fattoria vi saranno poi degli orti che saranno a disposizione di chi? Dei cittadini che vogliono coltivare un pezzo di terra. Siamo qua con entusiasmo per aiutare il sistema AISA con questa idea del zero spreco e del chilometro zero e di tutta una serie di zeri che potremo mettere insieme, in senso positivo e non in senso negativo, per creare anche questa ulteriore opportunità anche di studio, di verifiche, di ricerca, anche di opportunità nuove. L'agricoltura è un settore moderno se si sa sviluppare, se si sa diventare un'attività economica del terzo millennio.